Ciao a tutti, non è straordinario come noi festeggiamo tantissimo il Natale, che è importantissimo perché è il Natale di Gesù Cristo, il Salvatore per i cristiani, l'unto dal Signore, Cristo vuol dire proprio unto dal Signore. Come invece la Pasqua, sì, la festeggiamo, ma non è così sentita come il Natale. E questo perché è straordinario? È straordinario perché è importantissimo il Natale, in quanto è proprio nato Gesù nel giorno di Natale, ma dovrebbe essere ancora più straordinaria la Pasqua in quanto risorge. Ed è lì, proprio sulla risurrezione di Gesù, che si basa il cristianesimo. Questa risurrezione avrebbe veramente poco senso, no? Perché la risurrezione è quella che ci offre il nuovo patto, la vita dopo la morte, è quello che ci offre di nuovo l'eternità, è quello che ci offre la nostra vita eterna. Paradossalmente festeggiamo la nascita, ma festeggiamo anche, ma in misura molto molto minore, quella che dovrebbe essere la cosa ancora molto più importante, cioè la risurrezione, la risurrezione di Gesù, che è proprio il clou del cristianesimo. Ma dovremmo festeggiare, tra virgolette, anche la morte. Non perché sia bello festeggiare la morte, anche perché è stata una morte terribile, una morte in croce, perché proprio nel momento in cui Gesù spira sulla croce, succede una cosa importante. Innanzitutto si prepara la risurrezione, ma poi succede che il vello del Tempio di Gerusalemme si spezza. Il vello del Tempio è importante perché il vello copriva il Santa Satorum, cioè quella stanza all'interno della quale poteva entrare una volta all'anno e solo una volta all'anno e solo il capo della chiesa giudaica. Nel caso dell'epoca proprio in cui muore Gesù sarebbe stato Caifa, il gran sacerdote, il capo dei rabbini, perché all'interno c'era l'arca della Sacra Alleanza con all'interno le tavole della legge e lì c'era Dio, il Dio unico a cui tutti aspiriamo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento il quale questo vello di panno, spesso 10 centimetri, si dice che fossero questi gli spessori, che ricopriva all'interno della stanza e che non era apribile se no appunto una volta all'anno da parte del capo, dei capi, dei sacerdoti, come abbiamo appena detto, si è spezzato, si è proprio crepato, si è aperto, si è divelto. Questo sta a indicare che l'accesso a Dio è aperto a tutti, non più solo a un fortunatissimo, a un alto locato, ma tutti possono arrivare a Dio. Questo è il primo grandissimo miracolo che avviene proprio nel momento in cui Gesù muore. È la prima volta, e non sarà neanche l'ultima, in cui Dio ci fa sapere che noi come i Suoi figli, come i Suoi specialissimi figli, possiamo interagire direttamente con Lui, senza bisogno di interposte persone. Anzi, Lui desidera che noi ci approcciamo a Lui e che noi abbiamo un rapporto con Lui, un rapporto che deve crescere e continuare. Questo rende importante non solo la Pasqua, come e forse più del Natale, per il messaggio che ci arreca, ma rende importante anche il Venerdì Santo, un giorno tragico in cui Gesù muore in questa maniera orribile, ma che con la sua morte, col suo sacrificio, col suo essere elevato a sacrificio, per tutti noi, apre un grande e nuovo rapporto, una nuova alleanza con Dio. Bene, è il vlog del Pirata, anche per oggi finisce qua, portate pazienza, sono vlog un po' brevi, un po' precisi, ma sono i vlog della settimana santa, e quindi avranno più o meno tutti questo tema, perché è un tema importantissimo, è un tema che noi riscontriamo sempre, anche sul primo canale, quando parliamo di NDE e di tutte le altre cose connesse, è un tema che ci fa capire quanto è importante il nostro rapporto con Dio, quanto noi siamo collegati non solo a questa vita terrena, ma a una vita extraterrena, a una vita trascendente. Scrivetevi qua sotto cosa ne pensate, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Armanno, ciao! Grazie a tutti!